Buongiorno a tutti, eccoci qua per la pillola di oggi. Oggi parliamo di un libro che è di una bellezza straordinaria, un classico della letteratura italiana e stiamo parlando del Nome della Rosa di Umberto Eco. Ecco, ve lo faccio vedere così perché non ho la sovracoperta del libro e quindi non c'è immagine. Questo libro è edito da Edizioni Il Pompiani nel 1980, questa è la prima edizione e l'autore usa la scusa che ha ritrovato nel 1968 un manoscritto datato addirittura 1327 e da lì parte per raccontarci questa meravigliosa avventura. C'è un frate con il suo allievo che viene mandato dall'imperatore per partecipare ad un congresso in un'abbazia dell'Italia settentrionale. Ad un certo punto quando arriva in abbazia succedono delle strani morti, strani omicidi, cadaveri ovunque e questo frate si trova in qualche modo ad indagare su queste morti. Ma che cosa avviene all'interno di questa abbazia? In quale chiave di lettura va letto questo libro? Scopritelo, cercatelo questo libro perché è davvero bello, lo trovate praticamente ovunque, sicuramente molti di voi lo avranno già letto e fateci sapere se vi è piaciuto e che cosa ne pensate. Noi ci vediamo domani mattina per un'altra pillola di libri, sempre qui mi raccomando, condividete questo video, mettete mi piace e cercate il nome della rosa di Umberto Eco perché ne vale davvero la pena. Buona lettura a tutti e mi raccomando condividete, ma lo sapete già ormai. Ciao!